La cerimonia è finita. Che cosa succede? Tra poco la scuola sarà vuota. Quante volte mi è soggiogata? No, non mentire. Rebecca dice che a volte menti. Rebecca non è quella che credi tu, Adri. Quindi non è un vampiro originale che ha mille anni? Senti, possiamo chiarire tutto. Ma dobbiamo uscire di qui. Scusami, non è permesso. Perché non ti metti seduta? Il resto della classe è libera fra poco.